Questa sera parteciperà insieme a Roberto Vecchioni a un dibattito, un dialogo un po' particolare, ci vuole dare un'anteprima? Sì, è un parola e musica, diciamo che partendo dal tema che è scuola, giovani, cultura, faremo un dialogo di volta in volta delle pause che c'erano, delle canzoni, queste conversazioni porteranno alle canzoni di Roberto Vecchioni. Come professore universitario cosa manca oggi all'università italiana e cosa chiederebbe al governo di fare? Sarebbe facile chiedere più fondi ma non è la sola cosa, manca una profonda riflessione su che cosa serve oggi alla società e quale tipo di scuola a tutti i livelli, università compresa, serve alla società di oggi.